Basta così, ti hanno fatto. Non lo capirai mai. Mi hanno liberato. Me l'hai insegnato tu tanto tempo fa. I Ghost non cedono mai. Ora te lo chiederò per l'ultima volta. Tutti noi cediamo, Elias. Potresti chiederlo al tuo amico Ajax? Beh, se fosse ancora vivo... Prendi la sedia. Prendi la sedia. Porta qui quel bastardo. Deve finire così, Elias. Mi butterei giù da questo aereo. Adesso mi dirai tutto ciò che sai su quello scavo a San Diego. Cosa mi butterei giù, Tenette? Di nuovo? Rispondi, Rort. Elias, pensi di riuscire a piegarmi? Dai! Provaci! Eccomi qui! Prove. Portamelo qui. È finita, Rort. Hai perso. È qui che ti sbagli, Elias. Così mi hai solo facilitato le cose. Passa a trovarmi se non esci vivo, ragazzo! Ora... Da noi c'è posto per tutti! Tutti a rapporto? Qui Ash, sono con me Rick. Bene, Gigan è con me. Gigan, mi sto su degli alberi prima di atterrare. Cazzo, sta giù! Qui abbiamo visite. Stiamo arrivando. Gigan, mi senti? Dimmi di via a nord. Siamo sulla collina. Non farti vedere e ci troverai di sicuro. Puoi farcela via o no? Che cazzo è stato? Una scossa, forse. Ma potrei sbagliarmi. Qui ci sono ancora delle pattuglie. Un gruppo si dirige verso di voi. Ricevuto. Occhi aperti. Abbiamo un intruso! Suena l'arma! Chissà teniamo un intruso, però... Suelta l'arma, ora! E' sentito! Vabbiamo via alla! E' l'elemento! Contruttio del fuoco del potenzio! Quanti! Puoi farcela via o no? Bel lavoro. Non male, ragazzo. Logan, dove potete ritrovare? Esci, vi vediamo. Al minimo rumore, stai giù. Logan, vai. Allora, siete pronti? Un maco verrà a prenderci a due chilometri. Che cazzo è? Beh, vediamo di non diventare dei bersagli. Rapidi, silenziosi e ce la caveremo. Andiamo. Un alicottero ci aspetta al vallo. Lo sento, ma queste gole non fanno per lui. Allora approfittiamone. Marco, mi sentite? Siamo a metà strada. Stiamo ancora risalendo, Stalker. Ma ci saremo. Arrivano altri da questa parte. Adesso. Ecco lì. State fermi, lasciamoli passare. Immobili. Via, prima che ripassino di qua. Avanti, siamo quasi al fiume. Manca poco. Altre battuglie. Fianco destro libero. Ok, a destra. Basso profilo. Fuoco solo se individuati. Sì, al mio via. Ok? Via! Ora! Via! 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 Elicotteri, stiamo coperti, lasciamoli passare Garantioso Bassi e silenziosi, ci vediamo al crinale opposto Dietro di me, fila singola Coraggio gente, giù State, giù Ok, proseguiamo Siamo quasi al fiume Esci, chiamali Capomaco, qui sto al per 1-3, siamo al fiume Che cazzo succede? Cazzo Capo squadra, abbiamo un missile in volo, venite o no? Stiamo arrivando, Marco, un attimo Verificare il... Elicotteri nemici! Giù, subito State fermi Andiamo, forza Stalker, missile in volo, non resta molto tempo, qual è la vostra posizione? Un minuto, Marco, ci siamo quasi Roger, pronti a partire Tenete il motore caldo? Se solo metto le mani addosso a quello stronzo Potrei sparargli dopo di me Ci bagneremo un po' Ascoltare! Avvicinamento al punto di recupero Il NORAD non ha dubbi Il missile lanciato dallo Yucatan non ha colpito gli Stati Uniti Dov'è finito? È proprio quello che dovete scoprire C'è l'ok del Presidente, Operazione Clockwork Tra le ande c'è una struttura FED che potrebbe darci una risposta Vi infiltrerete per ottenere informazioni sul loro programma missilistico E il tuo vecchio amico Rork? Non ci mollerà mai Arriverà il suo momento Ma per ora, Clockwork ha la priorità Ora? 22.35 Andiamo Kick, abbiamo le divise nemiche Ci dirigiamo al checkpoint Arriviamo al checkpoint e ci disponiamo per la pattuglia 10 minuti per ottenere un trasporto e accedere a Blackbird prima del breakout Ricevuto Ci siamo, non sparate Ne conto 8 al checkpoint 9 con la guardia alla torre Priorità alla guardia, torre, lato destro Eliminato 3 alla torre, di comando sulla sinistra Eliminiamoli insieme Keegan a destra, io a sinistra Luca, in mezzo 3 eliminati Adesso gli altri, un bersaglio a testa Via Ottimo Andiamo Logan, copri Keegan a sinistra E togli quel corpo, ci farà scoprire Ash, coprimi le spalle Keegan, Redbird è nostro La pattuglia? È oltre il perimetro esterno verso di voi In orario Battuglia in arrivo Speriamo che la divisa funzioni Facciamo passare il PTR Logan, a te il conducente Avanti È solo il piede Ne pare se più Tutti pronti 30 secondi e andiamo Borsa Tutti dentro, andiamo Una volta dentro Ridurre al minimo il fuoco dopo il blackout Ash, devi violare i sistemi Appena siamo alla sicurezza Roger Skate crew, siamo alla festa Abbiamo un veicolo e siamo pronti a raggiungere Blackbird Ricevuto Blackbird tranquillo Infiltratevi e recuperate i dati Ricevuto Ingresso a Blackbird Ingresso a Blackbird 15 secondi 15 secondi 15 secondi 15 secondi Visori notturni Usateli fuori Via Versaia ore una Via libera Forza, abbiamo poco tempo Contatto a ovest Nemico eliminato Ash piazza la cimice Nemico allo scoperto Sono dentro Appena torna la corrente avremo occhi e orecchie Eseguo test preliminari E segnale confermato Ok Arriva qualcuno Libero Kik, siamo in posizione Alle prese con Victor Ok 30 secondi Rieserciando le luci Via il sigillo idraulico Trappana qui Non troppo C'è una piastra di sicurezza Può bastare Bene Fin qui ci siamo Piazza la carica Passiamo alla seconda 20 secondi Logan, trappana Sigilli neutralizzati Esplosivo armato Fuoco alle polveri Indietro, indietro Fala saltare Porta aperta Tempo al nido 4 minuti Eccolo Via le sicure Siamo online Coricamento in corso Capo Avrete un bel po' di compagnia Cekare Pesani Pesani suoi ають Invisatore Invisatore Sì, sì, sì. Attività alla prossima intersezione. Signore, il comandante chiara quella con te! Fatelo fuori! Alla prossima intersezione. Alla prossima intersezione. Passaggio al corridoio sud. Convergono su di voi. Stiamo uscendo. Andiamo verso il nido. Rilevo poca attività lungo il passaggio. Non vi hanno ancora visti? La rotonda bullula di nemici. Con calma. Fermi. Oh, il Capitano Gonzales. Ia viene a sé a chi. Carica! Porta, gente! Porta! 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 Forza prima, che arrivi l'intera base! Ormai manca poco! 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 Dai, salta dentro. Fuoco solo al mio segnale. Merrick, questi dati contengono stime delle vittime. Stime delle vittime? Per città, negli Stati Uniti. Toledo, Lexington, Chicago. Kik, usciamo dalla base. Buona fortuna. Avanti, verranno a prenderci tra due minuti. Un posto di blocco. Sappiamo che fare. Non si muova! Posizione! Alto! Che passa è il mando nostro signor al perimetro! Stiamo verificando identificazioni insigni a tutti. Non abbiamo tempo per questo! Hey, pare nel motor! Dai! Logan, alla torreta! Mai Piri Michi, verso a destra! Parli fuori! Andate! Volsciam! Viva la vostra, ora! Viva la vostra, ora! Arriviamo per l'estrazione! Incevuto in posizione tra 45 secondi! Arriviamo per l'estrazione! Incevuto in posizione tra 45 secondi! Arriviamo aperte! Accordato in posizione tra 14 secondi! Ascoltato! Possa! Abbiamo capito! Viva la vostra, altre posto! Tra 2 secondi! Siamo in posizione, passo! Siamo in posizione, passo!